E' appena terminata la partita Metropolis contro Pagnano, che ha visto la vittoria dei padroni di casa per 4 a 1. Intervistiamo Todeschini e mentre vediamo i suoi interventi chiediamo lui un commento su come è andata la partita. Al primo tempo siamo giocati alla pari, anche loro hanno avuto qualche occasione, però noi abbiamo sbagliato un po' troppo, però al secondo tempo siamo entrati più vivaci e siamo riusciti anche a portare a casa questa vittoria molto importante per la salvezza. Era l'ultima partita ovviamente d'andata, come hai visto te e la tua squadra in questa prima fase del campionato? Siamo migliorati molto dall'inizio del campionato, quindi se stiamo così possiamo tranquillamente salvarci e magari fare qualcosa di più. Grazie Matteo, ci vediamo alle prossime partite della Metropolis. Ciao, arrivederci a tutti.